Salve ragazzi, io sono Zett. Oggi sono in questo particolare outfit perché principalmente voglio raccontarvi una storia. Parla di Emic, un giovane enano che è partito, si è allontanato dal suo villaggio per scoprire chi effettivamente fosse. Parla di Duma, un halfling druido alla ricerca di gli elf antichi per poter salvare la sua foresta. Parla di Wally, disposto a tutto per salvare sua moglie dalle grinfie di qualcosa che non ha mai visto. Parla di Corinne, che attualmente si chiama Kaori perché nasconde il suo vero nome poiché è legato a una persona malvagia e vuole separarsene. Parla di Rack che vuole dimostrare che non tutti i draghi sono malvagi. Queste persone si sono tutte riunite ad Alpia. Dopo aver salvato un innocente dall'impiccagione si sono ritrovati uniti tutti all'interno della stessa gilda, una delle più prestigiosi del continente. Ma la scoperta dell'esistenza di un lupo invernale ha portato brutti riscontri. Fergus, padre di Emic, nonché uno dei precedenti eroi attualmente scomparsi, ha rivelato nuove informazioni sul passato di Alpia stessa, di Emic, sulla moglie di Wally e soprattutto sugli elf antichi di guidumare alla ricerca. Se volete accompagnarli anche voi in questa avventura potete seguirli tutti su Twitch, lascerò il link in descrizione. Ogni sabato pomeriggio alle 16.30. Inoltre ricordatevi anche di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like se vi è piaciuto così da essere sempre notificati quando uscire un nuovo video o io andrò in live su Twitch. Lascio anche il canale Instagram in descrizione e la pagina Facebook. Da Z è tutto, alla prossima!